Mobilità sostenibile, due parole, un concetto semplice, garantire ai cittadini un servizio di mobilità intelligente, pratico, sostenibile ecologicamente, semplice ma irrealizzato ancora nella totalità dei comuni umbri. Questo scomodo triste record sta però per essere infranto dal comune di Spoleto, con il suo progetto dell'agenda urbana da 3,7 milioni di euro complessivi, che vedrà il potenziamento della viabilità e illuminazione pubblica e l'investimento di più di un milione di euro in qualcosa di nuovo per l'Umbria. Nodi di scambio dotati di vetture per il car sharing, condivisione di un'autovettura per la mobilità cittadina, collocati nei punti strategici della città, affiancati da postazioni per biciclette e segway, il mezzo di trasporto con due ruote su asse e un manubrio. Con i fondi stanziati dalla regione, l'amministrazione comunale Spoletina è decisa a trasformare in snodi per il car e bike sharing le zone accessibili solo ai pedoni, le aree di Piazza Vittoria, parcheggio della Posterna, la stazione ferroviaria, l'ex campo Boario, oltre che potenziare l'apparato del trasporto pubblico già esistente, in particolare la riqualificazione delle fermate dell'autobus, con l'installazione di schermi con continui aggiornamenti meteo in tempo reale. Il concetto dietro all'idea dello sharing è semplice e geniale al tempo stesso. Tramite smartphone i cittadini possono prenotare biciclette, segway o autovetture in qualunque snodo siano disponibili, usufruirne per il lavoro o per la giornata, riportare il mezzo alla postazione originaria e pagare tramite una card ricaricabile. Il tutto disponibile 24 ore al giorno, con accesso continuo alla ZTL, accesso su appositi parcheggi a strisce blu, gratuiti per le automobili, mentre per segway e biciclette saranno realizzate ulteriori postazioni dotate di pannelli solari per la ricarica dei mezzi, oltre quelli disponibili agli snodi. Sistemi di mobilità già adottati in grandi città del nostro paese, ma che potrebbero a maggior ragione tornare utili per i piccoli centri storici dell'Umbria, in prospettiva di una loro chiusura al traffico, senza per questo inaridire i flussi viari interni. Esempi dunque che già la stessa Perugia, ma anche cittadine come Gubbio o Assisi, potrebbero seguire.